Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd, siete pronti per la top 10 dei 10 momenti più divertenti di LOL, chi ride fuori. 6 puntate della durata di circa 30 minuti cada una su Amazon Prime Video, LOL, chi ride fuori è il game show che sta facendo parlare un po' tutti. E non so perché non l'ho visto subito, nonostante la presenza di Elio e di Mara Maionki, due delle persone che amo e venero di più del panorama dell'intrattenimento italiano e non solo. Ebbene ho ceduto, e ho ceduto veramente con le lacrime agli occhi. In questa top 10 dei 10 momenti più divertenti per la sottoscritta non più divertenti in assoluto ci saranno spoiler, si può parlare di spoiler sulle gag che vedrete all'interno della prima stagione di LOL. Chi ride fuori, ma prima di entrare nel vivo c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando su tassino, scrivete e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima. E se anche secondo voi la massima felicità è rappresentabile soltanto attraverso un unicorno panchettone amerete questa maglietta firmata Pampling, sito di magliette articoli nerd. Trovate il link al sito in descrizione a questo video se volete il 20% di sconto su ogni articolo presente sul sito e per ogni vostro acquisto da qui all'eternità usate il mio codice personale ovvero COSMO e non me ne pentirete. Bene, cioncio le bande e LOL, chi ha i capelli lunghi è fuori. Le regole sono semplicissime, dieci comici o stand up comedian o geni come Elio, degli Elio e le storie tese rinchiusi in un'unica stanza per sei ore consecutive, una stanza con un palco, ogni tipologia di props immaginabile in cui possono fare di tutto tranne ridere, sorridere o fare comunque smorfie chiaramente divertite perché la prima volta che ne fai una vieni ammonito, la seconda volta che ne fai un'altra e vieni buttato fuori perché chi ride a LOL è decisamente fuori. Chiaramente tutte le altre persone cercheranno di farti scoppiare in fragorose risate un secondo sì e l'altro pure, il che genera delle situazioni che definire surreali mi sembra riduttivo. Ed eccomi qui a parlare dei dieci momenti che personalmente mi hanno fatto ridere di più in assoluto e ci saranno veramente momenti molto differenti tra loro. Ah, prima di tutto una menzione d'onore a Fedez che secondo me ha una brillante carriera da conduttore di fronte a sé perché mi è veramente piaciuto vederlo in LOL gestire la situazione perché sì, chiaramente i dieci comici all'interno di questa stanza vengono sorvegliati da due, diciamo, giudici, in questo caso Fedez e Maramayonki che controllano ogni singola loro azione e mimica facciale e se divertita guai a tutti. Bene, partiamo con la decima posizione, considerate che ci sono talmente tanti momenti di ridere in LOL chi ride è fuori che già la decima posizione praticamente è altissima. E sto parlando della gag ripetuta di Lillo, che io Lillo lo conoscevo in quanto membro del duo Lillo e Greg, ma devo dire che in LOL chi ride è fuori lo ho amato. La gag a cui mi riferisco, gag ripetuta, che nel corso di queste sei puntate è diventata un vero e proprio tormentone, qua sta anche l'intelligenza di Lillo, di riuscire a inserirla in ogni situazione adatta in modo da farla diventare sempre più divertente e che tipo, lui era mascherato, lui era girato di spalle e faceva Sono Lillo Che è veramente meraviglioso Sono Lillo E come mai fa così tanto ridere? Perché chiaramente lo sapevavo che era Lillo e il fatto che lo dicesse e che sentisse la necessità di farcelo sapere, o meglio di farlo sapere ai suoi compagni di gioco veramente era, cioè, vabbè, meraviglioso. Ho adorato troppissimo, come ho adorato tantissimo ciò che c'è in nona posizione ed è sempre Lillo, stavolta travestito da Posa Man che non è altro che una versione supereroistica di Zoolander, sostanzialmente, che si spara le pose Posa Man Che ha tipo sei o sette pose che nel corso delle puntate di LOL aumentano di una, forse Ed è un'idea semplice, immediata, basata sulla fantastica fisicità di Lillo E questa è la nona posizione, rincontreremo Lillo molto, molto, molto più in su In ottava posizione, ragazzi, ok, non era concorrente all'interno del gioco però mi mettete Mara Maionki e non vi posso non inserire all'interno della top ten Mara Maionki Cioè, ma per chi mi avete preso Non so, è tipo una divinità per me Mara Maionki E a parte tutte le espressioni che fa nella control room assieme a Fedez Quando ad un certo punto si comincia ad arrivare verso la fine del gioco La vedi proprio lì stravaccata sulla poltrona che non ne può più E sta pensando, ah, che due parole Cioè, non vedo l'ora di andare a casa Ma in realtà, il momento da zia Mara Che stavolta è zia Mara Maionki, non zia Mara Venier Che mi ha fatto più ridere in assoluto E lei che non appena fru dei Dejaka le viene eliminato dal gioco E quindi va in control room assieme a Mara Maionki e Fedez E' tutto lì spavaranzato sul divanetto degli eliminati, no? E che cosa gli dice Mara? Becchiti un po' a posto, l'ho seduto bene No, sto benissimo, no E sto benissimo State attenti perché Mara Maionki vi osserva E se non state seduti composti Arriva lì che con una sequela di parolacce Vi mette a posto per tutta la vita Su un composto, su, dai Bravo In settima posizione c'è una gag Che è rimbalzata tra due partecipanti di LOL Chi ride fuori E ha assunto veramente toni meravigliosi Oltre che assolutamente fantascientifici Sto parlando della gag del robot Sì perché nel momento in cui Frank Matano E' chiamato sul palco a fare cose A parte una fila di battute senza senso Ma che facevano ridere proprio perché senza senso Poi vedete che con la sua faccia da schiaffi Praticamente fa ridere quasi tutto Anche quando non dice niente Ecco C'è lui che fa il robot roborto Il robot che finge di essere umano E anche se si vede chiaramente che è un robot E già lì mi ha fatto molto molto ridere La gag diventa letteralmente esilarante Almeno per la sottoscritta Quando arriva pure Ciro dei The Jackal A fare la dance robot A fare insomma i movimenti del robot Accompagnato dal rumore del trapano Ecco anche lì Geniale assolutamente Ma quando il robot interpretato da Ciro Se ne va Che cosa gli dice Frank Matano? Penso che sia un robot Arrestatelo Cioè geniale Matano che riprende la sua gag In quanto robot che si finge umano Che vede un robot e fa il delatore E lo denuncia agli umani Cioè io Cioè Frank Matano è un genio Perché ha dimostrato in LOL Di avere veramente delle capacità comico-narrative Anche nel corso di 6 ore di trasmissione Veramente incredibili Perciò roborto Delatore degli altri robot con gli esseri umani Traditore della tua specie Ti lobo Veramente tantissimo Sesta posizione va a Pintus O meglio a una gag di Pintus Perché a me Pintus ha veramente fatto schiattare Le persone che mi hanno fatto schiattare di più All'interno di questa edizione di LOL Sono stati Frank Matano Elio Pintus E Lillo A parte Mara però Che non era una concorrente Questo è per i miei gusti Di ciò che fa ridere alla sottoscritta Chiaramente sono stati tutti e dieci bravissimi Avete presente il momento in cui hanno i microfoni Che fanno tipo cassa da supermercato No? Prima comincia Katia Follesa Tra l'altro Katia Che stralobbo Anche come conduttrice Come conduttrice è bravissima Tra l'altro E poi arriva Pintus E prende in mano il microfono E fa questa gag qua Ok Ripeto Non so se faccia parte del suo repertorio Gli sia venuta così Su due piedi Però è una delle robe più geniali in assoluto Pintus veramente per me fantastico Come fantastico E forse vi sorprenderete Che sia solo in quinta posizione Ma sapete Le altre quattro posizioni Sono momenti che mi hanno fatto Quasi letteralmente morire Quasi letteralmente Perché sono qua Quindi vuol dire che non sono ancora schiattata E quando Elio Vestito da tipo Ozzy Osbourne Misto a Mona Lisa Misto a Signore In calzoncini Da ciclista Con i gambaletti E le scarpe scure Insegue Frank Matano Correndo al microfono E facendo così Per minuti E minuti interi Io veramente Non so come abbia fatto Frank Matano A resistere così tanto E ci credo Che non appena Si è voltato E ha visto Elio E il concetto In questo modo Si è scoppiato a ridere E Frank Matano Che sembrava all'inizio Quello che sarebbe stato eliminato subito Invece ha resistito Tantissimo Ma non è riuscito A resistere a questo Avrete riso Quasi sicuramente A ciò che troviamo In quarta posizione Ovvero Lo spettacolo di Lillo E quando lui fa il mago Quando fa l'illusionista Allora sì La cosa delle bolle Che prende in mano le bolle E poi sono sparite Quando tira fuori i kleenex È stato meraviglioso È stato tutto meraviglioso Quel numero Soprattutto Quando si è messo lì Ad alzare Con la forza del pensiero Il coperchio Del bidoncino Della spazzatura Ma com'è possibile Riuscire A fare una roba del genere Senza ridere lui stesso E senza che gli altri Ridessero C'è stato meraviglioso Infatti Elio Per sua stessa ammissione In quel momento lì È quasi cascato Nella risata E considerando Quanto è esperto Di robe surreali Che fanno ridere da morire Lo stesso Elio Veramente vuol dire Che avevamo raggiunto Dei livelli Quasi irraggiungibili Belle d'occhio Tenetevi forte Ecco perché Il terzo posto È Mona Lisa La gioconda Interpretata straordinariamente bene Da Elio La volta che si toglie Il quadro Che fa il tip tap Cioè Lì è stato Veramente un momento In cui ho detto No Non ce la posso fare A vedere questa cosa Non ce la posso fare Assolutamente È troppo per il mio Povero cuoricino Debole Ecco Perché allora Già quando si è messo lì A suonare Le due note Fufu Della sigla Di braccio di faro Tra l'altro Con le due note Disegnate sullo spartito Già lì Ho riso tantissimo Quando poi Si è esibito Nel numero di danza Ovvero nel tip tap Cioè Io mi sono Quasi sentita male E vogliamo parlare Poi di quando fa Mentre danza Il tip tap Secondo posto Per la battuta Secondo me Più bella Di tutta La prima Stagione Di lol Chi ride fuori E la pronuncia Pintus Ok avete presente Che c'è Frank Matano Che ha portato Questa polaroid Che scatta Le foto E escono foto Di gattini Cagnolini Così Che è una roba Che fa ridere solo Esclusivamente a lui Pintus Prende una di queste foto Con un cagnolino Che era stata precedentemente Scattata proprio Da questa magica Polaroid Di Frank Matano La guarda E dice a Katia Follesa E poi Mi chiamo Fufi Ho due anni E mi sono perso E Cazzo Se iscrivere Vai a casa Cioè io sinceramente Non so Se Questa battuta Come la gag Precedente Che abbiamo già visto All'interno della top 10 Faccia parte del repertorio Di Pintus Il che Non toglierebbe niente Perché sono comunque Due gag E due battute Straordinariamente Fighe Ma se gli è venuta Questa qua Del cane Così Su due piedi Cioè Se già urlavo Al miracolo Prima Qua veramente c'è Genialità Comica Allo stato puro Perché vedendo Una foto così Di un cane Che ti venga in mente Di dire una roba del genere Cioè io sono rimasta A bocca aperta Sono rimasta Non solo divertita Ma anche stupita Di aver sentito Una battuta Così Bella Così Ben fatta Così intelligente Così divertente Della serie Ma com'è che non ci ho mai pensato È un approccio Molto brit Alla comicità Che io amo In particolar modo Perciò Pintus Poi soprattutto Nel suo essere Così infame Con gli altri concorrenti E fare sempre Battute cattive Sugli altri L'ho adorato E chi è morta La comicità Direi oggi Visto Siamo arrivati Alla prima posizione E dopo la battuta Secondo me più bella Di tutto lo show È arrivato il momento Che mi ha fatto ridere Tantissimo Allora E grazie a Frank Matano Dopo tante battute Intelligenti Dopo tante Tanti momenti Studiati Tanto repertorio Tanto di cappello In generale Frank Matano Ma fatto schiattare De brutto Sì E si parlava Prima della capacità Di Frank Matano Di riprendere Le battute E calarle In modo ancora Più divertente In altri contesti Senza essere Tuttavia fuori luogo Oppure essendolo Il suo essere fuori luogo E naif Ne rende ancora Più da Da Cioè Da morire Ecco Avete presente Quando Pintus Alla fine Di quella sorta Di reinterpretazione Del dialogo Di Harry Ti presento Sally Quando c'è Meg Ryan Che finge Insomma Di provare Particolare piacere Ruolo che viene Interpretato da Kate All'interno di Lol Che ride fuori E Pintus Dopo questa scena Fa Hai cagato Ecco benissimo Complimenti per la memoria Ottima memoria Che ha anche Frank Matano Perché in un momento In cui non sta succedendo Niente In un momento Di calma Apparente Va lì Da Pintus E gli fa Hai cagato? L'ho riso tantissimo Perché non ha minimamente Senso passare da Pintus Sicuramente Dì Hai cagato Cioè ma perché Ma in base a quale ragionamento Gli è uscita Cioè che ripensandoci Scoppia a ridere Cioè Vabbè Niente A quanto pare Lol che ride fuori È riuscito nel suo intento Ovvero a mandarmi in tilt Il cervello Ah mi state dicendo Che non era quello L'intento dello spettacolo Eh vabbè Forse Fatto sta che è decisamente Un ottimo prodotto Preso da un format giapponese E adattato in Italia In maniera veramente vincente Con personaggi fighissimi Un montaggio straordinario Che mantiene un ritmo Per sei puntate Veramente invidiabile E che fa ridere Veramente Veramente ridere Perché questi sono solo Dieci momenti In sei puntate Ma momenti in cui Ho riso Ce ne sono stati Altri che dieci Quindi non vedo l'ora Di scoprire Quale sarà il cast Della già annunciata Seconda stagione Di Lol Chi ride fuori E vi prego Fate che ci sia almeno uno Di Aldo Giovanni e Giacomo E poi Il mago forest E poi Paola Cortellesi E poi no Cioè veramente Li vorrei vedere tutti Piano piano Di stagione In stagione Perché credo che Lol Abbia solo Iniziato A stupirci Che nelle prossime edizioni Chissà Magari Ci sgancerà Ancora Bombe più grosse Di Hai cagato Se questo video Vi è piaciuto Come è piaciuto Al Cuocca Che lui Sì che è un vero Giudice di comicità Infatti non ha mai riso Durante Lol Da quanto è compreso Nel suo ruolo Di estimatore Della risata Nè vero Cuocca Allora dovete fare Sempre le solite cose Ovvero mettere mi piace Lasciare un commento Iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolin E attivando anche La campanella Delle notifiche su in alto Quello è sempre Una cosa importantissima Altrimenti Lol Chi cuocca È fuori